Neanche a Torrina veniva riservato il trattamento che veniva riservato a Maradona. Quando arrivava all'aeroporto gli ignoravano gli orecchini, un'altra volta gli ignoravano l'orologio. Lo omigliavano in ogni modo possibile per una presunta cartella esattoriale degli anni Ottanta. Conoscevo Maradona come giocatore, ovviamente da tifoso. Lui non poteva più tornare a Napoli in quanto perseguitato dal fisco. Io mi impegnai a studiare il fascicolo, feci una ricerca di tutti i documenti risalenti agli anni Ottanta. Eravamo già nel 2000, quindi 20 anni di documentazione fiscale, di atti da ritrovare. Capii che non c'era mai stata nessuna evasione fiscale, che invece c'era stata una grande strumentalizzazione che si utilizzava il nome di Maradona per fare la battaglia del fisco contro la povera gente. Si dichiarava Maradona, evasione fiscale, ma anche e soprattutto perché era napoletano, quindi lui pagava per aver dato lustro e aver fatto vincere Napoli nel mondo. Lui era l'esempio di Napoli, l'emblema di Napoli. Tant'è vero che poi vediamo che proprio la discussione in quegli anni nasceva a Napoli. Napoli fu il laboratorio per la discussione dei tributi in una forma molto molto violenta. Mi chiese di andare a trovare, disse vieni a casa mia, mi spieghi. A me non pareva vero ovviamente che Maradona mi invitasse a casa sua e il tempo di fare il biglietto, di preparare la valigia, dopo due giorni viaggiavo per Dubai. Quella cartella esattoriale invece riguardava un tributo che era di competenza del calcio Napoli, perché il calcio Napoli era il datore di lavoro di Maradona, ma soprattutto era già stato pagato dal calcio Napoli tramite il fallimento calcio Napoli. Quindi non solo non esisteva l'evasione, ma quel tributo era dovuto da un altro soggetto che era l'obbligato insolito. Ricordiamolo che Maradona era solo il dipendente del calcio Napoli. Appena finì di spiegargli perché non si poteva neanche ipotizzare lontanamente che lui fosse un'evasione fiscale, ricordo mi abbraccio forte e poi chiamò la figlia per dire Dalma, tuo padre non è mai stato un'evasione fiscale e continuava a commuoversi. Ma una battaglia nella quale penso abbiamo segnato tanti gol, ma soprattutto abbiamo riportato Maradona a Napoli. Maradona è tornato con me a Napoli, non ha più subito il pignoramento dell'orecchino, il pignoramento dell'orologio, non è stato più perseguitato dal 2010 ad oggi, ha camminato a Napoli da uomo libero, lo abbiamo portato sul lungomare, a San Carlo con Alessandro Siani, gli abbiamo fatto avere la cittadinanza onoraria napoletana, abbiamo mangiato insieme la pizza, abbiamo rivissuto Napoli come lui amava viderla. La battaglia è durata dal 2010 ad oggi e sarebbe finita a marzo nel 2021, dove la Cassazione doveva esprimere il verdetto finale sulla sostanza, sul merito per la questione e dimostrare al mondo che questa evasione fiscale non c'è mai stata. Purtroppo finisce oggi, ma Diego Maradona ancora una volta ha vinto, ha fatto vincere la verità, ha fatto vincere il bene sul male e tutte le cattiverie, le strumentalizzazioni, la persecuzione hanno trovato un muro davanti, ma certamente non hanno abbottuto Maradona.